I Borbone, una delle famiglie più antiche e importanti d'Europa, raccontata in un'opera che mette in risalto il fascino e lo splendore di un'epoca. I luoghi, i personaggi, le loro azioni e i loro pensieri. Un prezioso volume ricco di contenuti, raffinato, elegante, ad alto valore artigianale, a tiratura limitata. Un vero patrimonio artistico che racchiude la bellezza di un tempo che ha segnato la storia del nostro paese. Grazie a tutti.